ecco mi è arrivato una telefonata ciao a tutti da joker praticamente dice che mi è arrivato su questa moto non so che cos'è un cliente riceverà il pagamento è possibile installare modifiche differenti a quelle richieste a vendire moto qui ho capito nel club house ok e poi vai dentro qui va bene e poi la porta in vendita bene verniciatura vedi come l'officina bella bella argento argento prestazioni motore 2 freni trasmissione freni da strada trasmissione da strada e basta il turbo non lo metti trasmissione da strada ok carrozzeria marmitte laterali parafanghi anteriori a bordi cromati cromati si giusto parafanghi anteriori parafanghi anteriori dove sono marmitte ah eccolo qua parafanghi con bordi cromati ok telai a punta guzza telai ok ruote tipi di ruote romper racing 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 romper racing eccole qui conferma 50 vuoi davvero modificare questo veicolo per a 10.000 10.000 a per consegnare il veicolo deve essere il capo di una banda è giusto è vero allora quindi cosa faccio a questo punto vuoi da smetterci ok allora ecco perché la moto è pronta ma io adesso ero un ceo e quindi devo togliermi da ceo ritiro e divento un mc ok riprendo in mano sta moto ok ecco qui ecco è solo un piccolo video per vedere perché mi è arrivata una telefonata vediamo un attimo vediamo esternamente eh insomma è una bella moto forse l'ho anche avuto mi sa che ce n'ho una però più potente di questa o magari è lo stesso modello che moto è lcc e adesso ce n'è di impegni mi manca soltanto mi manca soltanto l'agenzia ho comprato tutto tutto in una botta tutto in una botta negli ultimi due video vediamo se schiaccio a no infatti la moto è per abbassare la testa devi portare il rotary avanti l'ho tolto infatti guarda vediamo in terza persona vedete devo portare il rotary avanti e lui si abbassa poco poco qua quanto fa? non si vede un kite non ce l'ha il quattro chilometro non so mi da 50.000 però 50.000 cavolo l'MG paga di brutto porca Eva ma io ho speso 10.000 vediamo se si impenna adesso sul rettiline la provo solo che prima che arrivo alla sabbia eh lo faccio dopo dai c'è la sabbia è facile che cadeva per terra solo per vedere se si impenna quindi per vederla mi allungo un attimino adesso è alta si alza rimane abbastanza stabile abbastanza abbastanza stabile che ti sta moto eh? Come ti sembra? E' buono, è buono. Consegna effettuata? Pagamento per la consegna? 150? 30.000? 180? Pagamento finale? Però? Però alla faccia il bicarbonato. Porca miseria. Ciao da Joker, ciao a tutti. Aspetta, dice, in qualità di presidente puoi invitare altri giocatori. Eh, vabbè, questo lo sapevo. Ok, questo qua mi ha chiamato, questo Zack qui. Io stavo facendo una cosa. Vabbè, dai, meglio così. Ciao a tutti, da Joker. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Grazie a tutti.